Buongiorno, andiamo oggi a risolvere questo problema, questo esercizio, andando a utilizzare il metodo della sovrapposizione degli effetti. Il metodo della sovrapposizione degli effetti ci dice che per studiare una qualsiasi grandezza del circuito, in questo caso la corrente che scorre su R3, io posso guardare prima gli effetti di un generatore e annullare gli effetti di eventuali altri, in questo caso ne abbiamo semplicemente due, quindi annullare l'effetto di E2. Questi entrambi sono generatori di tensione, quindi annullare gli effetti di un generatore di tensione vuol dire mettere la sua tensione a zero e avere la tensione a zero tra due punti è praticamente come avere un filo. Quindi noi andiamo a considerare gli effetti di E1 andando a mettere un filo, quindi un cortocircuito al posto di E2, viceversa poi andremo a considerare gli effetti di E2 andando a sostituire con un filo E1 e andiamo in entrambi i casi a calcolare la E3. Il risultato finale sarà appunto la summa degli effetti dei due calcoli parziali, quindi in poche parole con la sovrapposizione degli effetti io vado a semplificare il circuito ma lo vado a studiare due volte. Allora per prima cosa vado a mettere le correnti, quindi le correnti escono dai più di generatore, quindi I1, I2, quindi esce di qua e avrà la corrente di ritorno e I3 la posiziona in questo modo perché il generatore E2, che è 36 volte, è più grande di E1 che è 12 volte, quindi la sua influenza è maggiore e quindi sarà lui ad imporre il verso della corrente su R3. Se questo non fosse chiaro non sarebbe un problema, poi alla fine diciamo che ci verrebbe un meno sulla corrente, quindi capiremmo che il verso effettivo è l'altro. Allora per prima cosa quindi andiamo a considerare gli effetti del generatore 1 ed annullare quelli del generatore 2. Ecco qua, ho ridisegnato le correnti, ho messo I1 primo, I2 primo, I3 primo per indicare che è l'effetto del primo generatore e ho disegnato la tensione. A questo punto avrò che cosa? Che R2 ed R3 sono in parallelo, quindi andrò a fare il parallelo delle due, sono entrambe 60, quindi il loro parallelo sarà 30. Dopodiché vado a calcolare la VAB primo. VAB primo la posso calcolare come un partitore di tensione. Il partitore di tensione sarà il valore del generatore 1 per la resistenza senza ai capi della quale voglio trovare la tensione, quindi R2,3 diviso R1 più R2,3 in questo modo qua. Vado a sostituire e con i calcoli mi vengono 6 volt. A questo punto vado a calcolare la I3, quindi vado a calcolare la I3 primo che sarà VAB primo diviso R3. Quindi sono 6 diviso 60 e sono 0,1 Ampere. Ora stessa cosa procedo per E2, cioè considero gli effetti di E2 ed annullo quelli di E1 e vado a ridisegnare il mio circuito. Ecco qua. Ridisegno le correnti, a questo punto ovviamente I3 secondo e I1 secondo saranno orientate verso il nodo A. In questo circuito avremo che R1 è in parallelo R3, quindi andrò a fare R1,3, R1 parallelo R3 e 30 parallelo a 60 mi vengono 20 Ohm. Dopodiché vado a calcolare la tensione VBA secondo. col partitore di tensione andrò a fare E2 per linea di frazione, al numeratore andiamo a mettere la resistenza i capi della quale vogliamo calcolare la tensione, quindi R1,3 e al denominatore R2 più R1,3. quindi avrò 36 per linea di frazione 20 fratto 60 più 20 che sono 9 volt. A questo punto la E3 secondo sarà VBA secondo fratto R3, quindi sarà 9 diviso R3 che è 60 e qua mi viene 0,15 A. Ora andiamo a fare il ragionamento finale, andiamo a prendere il valore di I3 primo e il valore di I3 secondo e andiamo a vedere i loro versi in questo senso. Allora, la I3 totale sarà la somma del contributo I3 primo con I3 secondo ma bisogna vedere i versi delle correnti. Quindi, l'I3 all'inizio del nostro circuito andava verso il nodo A, l'I3 primo ha verso opposto e quindi sarà meno I3 primo, l'I3 secondo invece ha verso concorde, verso il nodo A e quindi in questo caso avremo che I3 è uguale a I3, abbiamo detto meno I3 primo più I3 secondo e quindi sarà meno 0,1 più 0,15 quindi sarà 0,05 A. Quindi già questo segno più ci fa capire che il verso effettivamente è questo e questo è il contributo dei due generatori per la I3. qua scriviamo l'appunto che è col meno perché discorde, col meno poiché verso opposto alla I3 del primo circuito. e qua ho terminato. In questo modo si potevano trovare le altre grandezze del circuito sempre andando a considerare i versi dei due rispettivi circuiti separati con l'effetto di E1 e l'effetto di E2. Spero di essere stata chiara, ci vediamo al prossimo esercizio.